Musica Aveva 267 auto intestate, usate però da altre persone in tutta Italia. I carabinieri hanno notificato al 29enne di Torino il decreto di sequestro anticipato delle vetture emesso dal Tribunale del Capoluogo Piemontese. L'uomo, con diversi precedenti penali, al momento non è stato denunciato anche se i militari ipotizzano che le quattro ruote potessero essere anche utilizzate per commettere reati. Era intestata al 29enne anche la BMW Cabrio che il 29 settembre scorso si scontrò con un'auto in strada all'aeroporto a Torino. Nell'impatto era morta una bambina di due anni che viaggiava sull'altra vettura con la madre. Dalle indagini era il risultato che il giovane romeno alla guida della BMW, di ritorno con tre amici da un matrimonio, aveva un tasso alcolemico doppio a quello consentito e che al momento dell'incidente avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Grazie.